A sorpresa si ripete lo schema del 2014, stesso candidato, stessi voti con Gianluca Galimberti, ancora 17 mila voti come cinque anni fa, sullo stesso dato ottenuto da Giancarlo Corada, sconfitto al ballottaggio da Oreste Peri nel 2009. È il bacino elettorale del centro-sinistra che si riconferma immutato, col PD prima lista davanti alla Lega. Se il ruolo di Carlo Malvezzi come candidato avversario viene ogni giorno messo in discussione fra i suoi elettori, il titolo di ago della bilancia rimane non aggiudicato. Non vuole esserlo Ferruccio Giovetti che sarà consigliere comunale dato che la sua lista, costruita in pochi mesi, ha preso il 3,3% con 1.223 voti, quando il distacco fra i primi due candidati è di 1.731 voti. Giovetti annuncia che andrà a votare ma non dà indicazioni né farà apparentamenti. Rimane un ultimo spiraglio in vista dell'ultima riunione della sua lista. Anche Luca Noli dei Cinque Stelle andrà a votare al ballottaggio fra due settimane senza alleanze né indicazioni ma ammette che potrebbe votare il meno peggio. Di Galimberti lo preoccupa il programma con l'autostrada nuova e però il diniego ai cittadini di Via Giordano di pronunciarsi per referendum sulla strada sud. Mentre spiace di Malvezzi la candidatura imposta dall'alto quando la maggioranza dei consiglieri sarà della Lega. Pochi voti ricevuti dal candidato di Forza Italia, solo 2.000 in tutto per Viva Cremona Malvezzi sindaco e Forza Italia Berlusconi per Malvezzi. Da parte propria Alessandro Zagni ha fatto un record con 1.134 preferenze ma non è arrivato neppure a 2.000 con l'intera sua lista Lega, Lega Lombarda, Salvini Lombardia. E ora lo stesso Zagni invoca l'arrivo di Matteo Salvini per la volata finale. Nel centro-sinistra ci sono alcune delusioni. La sinistra a sinistra per Cremona Energia Civile in Comune resta sotto il 3%, sicché nemmeno Rosita Viola sarà consigliere. La sparizione della sinistra potrebbe così favorire un'apertura al centro in vista del ballottaggio che appare dunque quanto mai imprevedibile. Nemmeno Alessia Manfredini con la sua lista civica Cittadini per Passione, esterna al PD, viene eletta consigliere e forse neanche la terza assessora, Barbara Manfredini sarà rieletta dato che fare nuova la città ha perso quota, riuscendo però a eleggere in consiglia Letizia Cacu, prima persona di colore eletta a Cremona e Marco Loffi. Si sono avvantaggiate le 5 liste civiche a sostegno di Galimberti. Il PD avrà 12 consiglieri, fra i più votati Santo Canale, Luca Burgazzi, Maura Ruggeri, Andrea Virgilio. La composizione del consiglio comunale è comunque ancora da definire.